Thomas Plotzner, una partita stregata quella di oggi per il Tolmezzo. Sì, peccato, perché siamo partiti subito, ci hanno buttato fuori un uomo per un'espulsione ingiusta, perché la munizione c'era, era un fallo tattico, ci hanno buttato subito fuori un uomo. Eravamo già sotto 1-0, però comunque il secondo tempo abbiamo avuto una bella reazione, abbiamo pareggiato, poi purtroppo questo episodio, il novantesimo, che ci ha castigato questo calcio di rigore. Siamo sempre a mangiarci le mani, insomma. C'è stata anche l'occasione che hai avuto tra la testa e i piedi per il possibile vantaggio, però sfortunata, non sei arrivato in tempo. Sì, purtroppo per questioni di centimetri, il calcio è anche questo, l'episodio, se la palla mi arriva un po' più vicina riesco a fare il gol. Questo è il calcio, purtroppo adesso le pause neanche si girano, per cui andare avanti. Secondo te come si dovrà reagire nello spogliatoio per i prossimi impegni, anche visti tanti fortuni? Passare la testa avanti così, perché sappiamo che da un periodo di crisi che ci sono già stati, nel nostro caso sappiamo che siamo sempre riusciti a reagire al meglio. L'unica cosa è unirsi, stare uniti come abbiamo un bel gruppo e andare avanti e pensare alla prossima partita che sarà una battaglia.